Musica Debutto positivo per la prova orale della maturità, gli studenti raccontano le loro emozioni, prima e dopo il ritorno in classe, presidenti di commissione soddisfatti per la preparazione dei ragazzi. Il direttore generale ASST ringrazia il territorio per le genose donazioni agli ospedali, grazie a questi fondi, dice Saporito, potenziata l'autosufficienza dei nostri reparti. Doveva sborsare più di 2.000 euro l'autotrasportatore che a Grosotto è incappato nel controllo della postata di Sondrio, diverse le irregualità riscontrate, negli ultimi 30 giorni 63 i camionisti multati. Sono Marco Caprari, Enrico Del Barro, Benetton Del Zoppo e Renzo Fallati, i quattro insiniti della massima onorificenza rotariana. Il presidente Sandro Nava hanno operato per il bene della comunità. Musica Buonasera a tutti, emozione ma anche soddisfazione per studenti e commissari nel primo giorno degli esami di maturità. I ragazzi sono tornati a scuola nel rispetto delle misure anti-covid dopo quattro mesi di lezione e distanza per affrontare la prova orale. Vediamo il servizio. Pronto ad entrare? Quali sono le emozioni che stai provando in questo momento? Ma in questo momento credo come tutti non mi ricordo più niente, quindi spero solo che saranno buoni con me e vedrò come andrà poi. Com'è stata la notte prima degli esami? Per fortuna sono riuscito a dormire. La normale agitazione non poteva mancare prima dell'ingresso in aula per affrontare la prova orale nel primo giorno degli esami di maturità nel rispetto delle misure anti-covid. Reazione di liberazione di festa per gli studenti del campus di Sondro all'uscita. È stato abbastanza bizzarro rientrare a scuola dopo tanto tempo, però è stata un'emozione forte. L'esame è andato bene, nel senso che non è impossibile, quindi per tutti i maturandi che lo devono ancora fare state tranquilli. Mi hanno chiesto le cose su cui ero maggiormente preparata, ovvero Leopardi e Schopenhauer, che sono i due mostri del pessimismo che era la corrente filosofica su cui mi sono soffermata maggiormente nel ripasso anche. Bene, dai, mi aspettavo peggio in realtà. È un esame che crea tanta ansia, ma alla fine quando è passato è passato e comunque i prof ti mettono a tuo agio, ti fanno partire dalle tue tesine che abbiamo già preparato a casa. Quindi sì, alla fine non è stata così impossibile come me l'aspettavo. Comunque io ho potuto non tenere la mascherina e l'avevano soltanto i professori. Cosa farai ora? Eh, ora farò l'università. Cosa hai scelto? Non ho ancora scelto precisamente. Soddisfatte le commissioni per l'atteggiamento degli studenti che dopo quattro mesi di lezioni a distanza sono tornati a scuola motivati e preparati. Stanno andando bene i colloqui, anche meglio rispetto a quello che prevedevamo. I ragazzi stanno reagendo bene dopo questo periodo di dad e ci si stanno insomma adeguando alla situazione. E anche noi, nonostante i cambi down eccetera, però diciamo che il clima è sereno. I ragazzi si sono distinti anche in quest'anno particolare e hanno voluto dimostrare sia il loro percorso di alternanza scuola lavoro, sia le conoscenze nelle varie discipline e si sono difesi abbastanza bene. Cosa si sente di dire agli studenti che devono ancora affrontare la prova orale? Facciamo tanti auguri anche perché hanno bisogno di essere incoraggiati e di essere supportati da noi insegnanti. La sanità da venerdì scorso un decesso, tre ricoveri e due dimissioni all'ospedale di Sondalo. Attualmente risultano ricoverati 19 pazienti positivi al coronavirus, 11 donne e 8 uomini. 703 i ricoveri che si sono susseguiti in 16 settimane da quel 2 marzo che segna inizio dalla battaglia ingaggiata da Morelli contro il Covid-19. In totale i dimessi sono 485, mentre i decessi sono saliti a 165. La componente maschile, spiega SST, è più del doppio di quella femminile. Per quanto riguarda i tamponi, superata quota 7.800. Da venerdì scorso ne sono stati effettuati 286, 12 le nuove positività rese note. Si è anche conclusa l'indagine sierologica sul personale dell'azienda. Su 2.615 dipendenti che hanno accettato di sottoporsi al test, i casi di positività sono il 12,3%, 359 dipendenti poi sottoposti a tampone che ha riscontrato 25 positività. La generosità dei valterinesi in questi mesi ha dato un supporto prezioso alla nostra sanità. Ieri vi abbiamo parlato d'aiuto di Pro Valtellina ai nostri ospedali, oggi vediamo come ASST ha impiegato i fondi ricevuti attraverso tante donazioni del territorio. Oltre un milione e mezzo di euro donati ad ASST. L'amore dei valterinesi per i loro ospedali si è tradotto in questi mesi in una forte ondata di generosità. Risorse preziose che hanno sostenuto l'azienda sociosanitaria territoriale del fronteggiare le molte necessità per la cura dei malati di coronavirus. Grazie al territorio che si è mostrato una comunità solidale, dice il direttore generale di ASST Tommaso Saporito. Ora dice è tempo di rendere conto di come questi soldi sono stati spesi durante l'emergenza. Perché ci hanno permesso di poter essere, non dico autonomi, ma sicuramente ci hanno dato respiro in periodi molto critici per quanto riguarda l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale, quindi mascherine FFP2, camici, camici meno uso, camici impermeabili, mascherine e comunque anche le visiere. Tutto ciò che è servito al personale per potersi proteggere durante l'assistenza ai pazienti Covid, che a sondolo sono arrivati a 240 pazienti ricoverati. Se non abbiamo avuto punti di 24 pazienti ricoverati anche in terapia intensiva. Non solo materiali ma anche apparecchiature. Abbiamo comprato respiratori per rianimazione, abbiamo comprato respiratori per CPAP, quindi respirazione non invasiva, abbiamo comprato sistemi di monitoraggio per questi pazienti che finiscono purtroppo in un ambiente ad alta assistenza, abbiamo comprato pompe da siringhe e pompe da infusioni, letti elettrici che ci hanno permesso di poter lavorare in tranquillità e ci hanno permesso anche di, e ci permettono di poter essere autosufficienti nell'eventuale malaugurata ipotesi che si verifichi una pandemia di questo tipo ad arrivare a 30 posti letto di terapia intensiva e 20 posti letto di subintensiva in pochissimo tempo. Io devo ringraziare tutti gli operatori del presidio, soprattutto di Sondalo, di Sondrio, di Morbegno e di Chiavenna, perché fin dall'inizio si sono dimostrati molto aderenti alla progettazione aziendale per la trasformazione dell'ospedale Covid a Sondalo. Però non dimentichiamoci che anche gli altri ospedali hanno garantito la sanità a tutti gli altri cittadini cercando di tenere lontano comunque i pazienti con infezione Covid. Sulla sanità provinciale e sul futuro assetto gli ospedali il territorio deve essere unito, le divisioni non giovano a nessuno, ne è convinto il sindaco di Cosio Valtellino presente all'incontro svoltosi ieri a Morbegno. Sentiamo. Evitare le divisioni, ricucigli strappi è l'appello lanciato dal sindaco di Cosio Valtellino a Lambalinetti durante l'atteso incontro svoltosi a Morbegno dedicato al futuro della sanità in provincia di Sondrio. Sotto i riflettori il documento stilato dal dottor Roberto Scaramellini. L'auspicio è che le fratture che si sono segnate in questi periodi sul tema della sanità provinciale si possano andare a risanare, ricucire al fine di andare a produrre un documento che rappresenti l'intera provincia. È vero che siamo un territorio molto ampio ma anche è vero che siamo pochi abitanti e dobbiamo per forza, con molta responsabilità istituzionale, riuscire a trovare una sintesi tra tutto il territorio. Pena è che ne esca un territorio frantumato e che le nostre istanze non vengano accolte né da una parte né dall'altra. Sul Morelli ha spiegato a Maninetti necessario trovare un punto di sintesi provinciale. Diciamo che le posizioni che sono nate sul Morelli possono essere legittime e opinabili allo stesso tempo. L'essere uno contro gli altri o per forza arroccarsi sulle proprie posizioni non porterà che ad avere dei morti sui campo. Non si vuole fare giochi di forza ma si vuole trovare il vero bene del territorio che non si può che trovare insieme. Dividendosi ovviamente non si fa che il gioco di lasciare decidere ad altri e di non vedere accettate le proposte del territorio. Presente l'incontro, morbenesi rappresentanti del comitato, salviamo la sanità. Per ribadire i punti fermi che noi chiediamo sempre per il POT di Morbenio sono gli stessi che chiediamo sempre dal 2017 che sono stati messi anche nella delibera 25 partita dal comune di Morbenio e poi firmata dai 23 comuni su 25 del mandamento. Sono i sette posti aggiuntivi del reparto hospice, il ritorno dell'automedica, quindi il mezzo di soccorso con medico a Morbenio che invece adesso è in sessione a Colico. Poi chiediamo il quarto piano come degenza di comunità e la trasformazione del PPI come punto di primo intervento invece in pronto soccorso alpino con l'appoggio di un medico anestesista e chiediamo anche che finalmente, dopo la promessa del POS del 2017, arrivi la famosa attacca che era già tra l'altro stata messa in bilancio. La cronaca a due uomini sono finiti in ospedale a causa di una violenta lite sfociata ieri sera in strada a Campo Tartano, località nota alle cronache per una lunga serie di atti vandalici ancora senza responsabile. L'appello del commissario Veneruso, stiamo lavorando con le forze dell'ordine per riportare serenità in paese. Vediamo. Assume connotati quantomeno preoccupanti dopo gli incendi e danneggiamenti di auto in sosta delle scorse settimane. La lite è avvenuta ieri sera alle 22 a Campo Tartano che ha visto finire in ospedale un 56enne e un quarantenne, entrambi residenti in paese. I due, secondo una prima ricostruzione, avrebbero avuto una discussione animata passata ben presto dalle parole alle mani con calci e pugni reciproci. Così, secondo le prime testimonianze, tre residenti della zona sarebbero scesi in strada per sedare gli animi e dividere i due valtellinesi. L'appello è toccata al 56enne che ha riportato una contusione toracica ed è stato ricoverato all'ospedale di Sondrio con una prognosi di 30 giorni. Ferite lievi per il quarantenne medicato all'ospedale di Morbegno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Morbegno e i colleghi del radiomobile di Sondrio impegnati a fare piena luce sull'esatta dinamica di quanto accaduto, ora oggetto anche di un fascicolo di indagini aperto dalla procura. Tengo a tranquillizzare la comunità di Tartano, commenta il commissario prefettizio immacolato a Veneruso. I carabinieri stanno facendo tutti gli accertamenti necessari per fare piena luce sulla colluttazione. Per quanto riguarda invece reati ancora senza responsabile che hanno scosso la collettività, conclude il commissario. Anche su questo fronte forze dell'ordine comune per le sue competenze stanno monitorando la situazione al fine di favorire una condizione di maggiore serenità in paese. E ancora la cronaca supera i 2.000 euro, la maximulta che dovrà sborsare un camionista straniero fermato per un controllo a Grosotto. Gli agenti della polizia stradale di Sondrio hanno riscontrato una serie di irregolarità. Negli ultimi 30 giorni, 63, gli autotrasportatori multati in servizio. Ha inanellato una serie di violazioni e ora dovrà sborsare più di 2.000 euro di multa. Protagonista un autotrasportatore quarantenne di nazionalità greca. Stava effettuando un trasporto internazionale di merci quando incappato nei controlli predisposti dalla polizia stradale di Sondrio. Era la guida di un auto articolato. A Grosotto l'incontro con la pattuglia. Gli agenti, al diondine del comandante Alessandro Grattarola, hanno eseguito un accurato esame dei dati tachigrafici scaricati dal sistema installato all'interno della motrice. E così sono emerse numerose e gravi violazioni a normative comunitarie sulla circolazione stradale del settore del trasporto. In particolare era stato superato il numero massimo di ore di guida. Il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo e anche dei limiti di velocità, irregolarità per le quali sono state elevate sanzioni che assommate superano i 2.000 euro. Trattandosi di un auto articolato immatricolato all'estero, spiega la polizia stradale di Sondrio, e non essendo possibile per il conducente pagare immediatamente l'importo complessivo dovuto, è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo. Il tiro è stato portato nel deposito di un ente di custodia autorizzato. Il camionista greco si è visto ritirare la carta di circolazione, provvedimento che resterà in vigore fino al pagamento della somma prevista, la maximulta elevata nei suoi confronti. Dal 15 maggio scorso sono state contestate dalla sezione della polizia stradale di Sondrio nei confronti di autotrasportatori professionali 63 infrazioni per mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo. Di queste 33 sono avvenute in fascia notturna, 16 le violazioni per sistemazione e fissaggio del carico non conforme a normativa in vigore, 11 infrazioni per superamento dei limiti di massa e il cosiddetto sovraccarico, 33 violazioni riguardavano invece la normativa sul cronotachigrafo. Ora ci spostiamo in Alta Valtellina. Da circa un mese un bel esemplare di lupo maschio si aggira solitario sui monti di Livigno. L'animale è stato avvistato da molte persone che ci hanno permesso di condividere con voi un video del lupo. Damiano Bormolini, sindaco di Livigno, dopo la visita dell'orso di alcune settimane fa, da un mese si susseguono gli avvistamenti del lupo. Dove è stato notato Livigno? A Livigno da circa un mese che viene segnalato la presenza del lupo. È stato avvistato diverse volte, anche recentemente, e in particolar modo sulle montagne e nei dittorni del paese. Considerato che in questo momento gli viene facile anche la caccia e quindi procurarsi il cibo, si presume che per un certo periodo si parla di un esemplare maschio da solo e di conseguenza si prevede anche che nel giro di breve tempo si allontani. Considerato che anche negli anni passati ci sono stati degli avvistamenti per un periodo breve, probabilmente succederà così anche in questo caso. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Provinciale? Sì, è monitorato dalla Polizia Provinciale e anche dai forestali che sono sul territorio. In paese non ha provocato danni, si ciba per lo più di animali selvatici? Sì, infatti, come ho già specificato, nel centro abitato non dè sta preoccupazione sotto quell'aspetto. Il consiglio è quello di sempre, non avvicinarsi, soprattutto se si è con dei cani, giusto? Sì, certo, su indicazioni anche delle guardie provinciali, è proprio quella di evitare innanzitutto di avvicinarlo, ma in secondo luogo, ancora di più, se si hanno animali al seguito come cani, perché il rischio che per difesa attacchi l'animale potrebbe esserci, quindi invito a tutti e di andare ognuno per la propria stare tranquilli e che il lupo farà la stessa cosa. Hanno contribuito al bene della comunità nella quale vivono, per questo hanno ricevuto la massima onorificenza dal Rotary Club Sondrio. Nel servizio scopriamo i quattro valtrinesi premiati. Quattro le Polaris Fellow, massima onorificenza rotariana assegnata dal Rotary Club Sondrio nel corso della conviviale svolta a Setresivio. È stato il presidente Sandro Nava a comunicare i nomi dei quattro insegniti. Questa sera noi consegniamo quattro Polaris Fellow, che sono la maggiore onorificenza a livello rotariano nel mondo. Vanno a personalità che si sono particolarmente distinte nel servire il prossimo. Il vero è che il motto del Rotary è servire al di sopra di ogni interesse personale. Questo è il motto ed è giusto che chi all'interno del Rotary o anche all'esterno del Rotary ha fatto questo per la comunità, per la nostra valle. Premiati sono quattro quest'anno. Sono Benedetto del Zoppo, dell'Indomita, un socio del Rotary, Marco Caprari. Poi Enrico del Barba, della Nevicella di Morvegno, al servizio dei malati di salute mentale. e Renzo Fallati, che è un personaggio colto di Morvegno, che ha istruito centinaia di morvegnesi e anche valtellinesi. Rotariano è un impegno che si prende nei confronti della comunità. È quello di fare delle attività a favore della comunità. Il tema fondamentale del Rotary è il service, quindi dedicarsi agli altri. Questo riconoscimento lo voglio, lo diceva anche il Presidente, lo voglio dedicare agli utenti psichiatrici e alle loro famiglie. Perché in questi anni della mia carriera, diciamo di volontariato, ho lavorato e sto ancora lavorando con queste persone con cui condividiamo questo pezzo di strada. Noi siamo impegnati a 360 gradi, quindi ci occupiamo proprio dai bambini, ai ragazzi disabili e soprattutto poi anche ci rivolgiamo ai turisti. Ne sono felice, ne sono onorato e dedico questo premio a mio papà Ettore e a mia mamma Doris. Loro ne sarebbero orgogliosi ancora più di me. Due i nuovi soci del Rotary Club Sondrio, il consulente finanziario Samuele Pace e il costituzionalista Bruno Di Giacomo Russo. Bene, siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento sul web con il nostro sito teleunica.com e con i nostri social, quindi Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A seguire le previsioni meteo, buona serata! Grazie a tutti!